La memoria e il nostro impegno è un dovere verso quelli considerati diversi, trasformati in fumo, filtrati da quei cammini maledetti, è un dovere verso tutte quelle vite che il male ha spento. La memoria, se non diventa una pagina di storia da divulgare ai giovani col tempo, per effetto naturale tende a svanire. Le nostre voci e quelle dei nostri figli devono servire a non far dimenticare e a non accettare con indifferenza e rassegnazione le stragi di innocenti provocati dal nazifascismo sin dalla sua nascita. Abbiamo il dovere di sollevare quel manto di indifferenza che copre il dolore per migliori di morti. I giovani liberi devono sapere e noi abbiamo il dovere di aiutarli a capire che tutto ciò che è stata storia rischia paurosamente di ripetersi. La memoria non è passato, ma esercizio quotidiano del presente. Significa che non possiamo cambiare il passato, perché è passato, ma abbiamo la possibilità e il dovere di agire nel presente per cambiare il futuro. I campi di sterminio hanno rappresentato il massimo livello dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Nei campi di sterminio le persone venivano eliminate direttamente nelle camera gas, oppure indirettamente mediante il lavoro schiavista, per la produzione bellica e il profitto economico, anteposto alla dignità e ai diritti. Riflettiamo quindi su cosa sia oggi nel 2022 il tema del lavoro, della dignità e dei diritti e quale distanza vi sia fra quanto sancito come diritto nella Costituzione italiana e quanto invece venga ancora ignorato e negato nella realtà dei fatti. Quindi a futura memoria e ad impegno presente. Molte cose sono state dette sulla giornata della memoria, molte sono state dette dalle persone che hanno parlato prima di me, da quelle che parleranno dopo. Io vorrei soffermare un attimo l'attenzione sull'aspetto educativo dell'istituzione di questa giornata, un aspetto educativo che oggi è particolarmente importante visto che anche oggi, anche se sotto aspetti completamente diversi, viviamo un periodo di pericolo per noi, per la nostra vita. Credo che la parola fondamentale sia indifferenza. Noi dobbiamo non essere indifferenti, dobbiamo non girarci dall'altra parte, non evitare di affrontare i pericoli e darci veramente da fare, mettere il nostro impegno per il bene comune. E credo che questo sia un grande insegnamento, che si può appunto mutuare da un aspetto come quello che si viveva negli anni 40 in Italia e in Europa a quello che viviamo oggi in tutto il mondo veramente, con un pericolo globale. Io auguro buona giornata della memoria a tutti, dove buona giornata della memoria vuol dire una giornata della memoria proficua dal punto di vista della riflessione. Abbiamo bisogno che la giornata della memoria sia un patrimonio collettivo. Lo sterminio che i nazisti hanno perpetrato deve essere in qualche modo un anticorpo di cui noi siamo portatori sani, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. Grazie a tutti i cittadini e facciamo in modo che questa giornata della memoria sia patrimonio della cultura della nostra città. Grazie a tutti i città. Grazie a tutti i città.